Papa Francesco ha canonizzato il beato bresciano Lodovico Pavoni domenica 16 ottobre. La diocesi ha organizzato un pellegrinaggio a Roma guidato dalla comunità parrocchiale della Pavoniana. Numerosi ragazzi e genitori che hanno voluto partecipare alla canonizzazione del beato Pavoni, sacerdote, formatore ed educatore. Il vescovo Luciano ha accompagnato la delegazione bresciana e ha tenuto una riflessione sabato pomeriggio nel santuario del Divino Amore. Qui la rappresentanza bresciana si è unita alle altre delegazioni dal Veneto, dal Trentino e dal Nord Italia. Tanti i presenti alla celebrazione e allo spettacolo che ha seguito la messa, concelebrata da Monsignor Monari e Monsignor Giulio Sanguinetti. Amore sole, ho 16 anni e conosco la Pavoniana perché è l'oratorio di quartiere, quindi mi incontro con i miei amici e faccio comunque catechismo da quando sono piccola e per me essere qua a Roma oggi ha sia un significato religioso nel senso vedo il fondatore del mio oratorio diventare santo che comunque stare facendolo con i miei amici e con le persone con cui condivido praticamente tutti i giorni la vita in oratorio. Mi chiamo Irene, ho 14 anni e frequento l'oratorio da quando sono piccola. Mi piace dare agli altri ciò che è stato dato a me quando ero piccola e quindi cerco sempre di aiutare le altre persone. Per l'oratorio faccio la catechista anche se ho iniziato solo quest'anno e invece aiuto al Grest da due anni. Mi piace questa cosa perché mi piace comunque rendermi utile per le persone e credo che essere qui sia un'esperienza molto importante dal punto di vista formativo e dal punto di vista del gruppo. Domenica mattina i pavoniani con le sciarpe gialle con la scritta Pavoni Santo si sono mescolati in piazza San Pietro con numerosi sudamericani, spagnoli e francesi a corsi per le diverse canonizzazioni. Sette i nuovi santi voluti da Papa Francesco, testimoni vivi di misericordia e di amore. Per me vivere questa giornata è stato abbastanza emozionante perché infatti ho visto sia da vicino al Papa sia ho assistito alla canonizzazione di Lodovico Pavoni che è ormai santo della mia parrocchia nella quale sono sempre nato e cresciuto e ormai mi fa strano sentirlo chiamare Santo Pavoni perché sono sempre stato abituato a sentirlo beato Lodovico Pavoni quindi è un po' particolare. L'oratorio è un luogo che molto spesso viene dimenticato ma che ha una sua importanza e l'importanza è quella di unire molti giovani in attività sportive ma anche in attività di gioco attività attraverso le quali si uniscono e imparano a vivere insieme e a conoscersi quindi è un luogo che viene sottovalutato e che va riscoperto. Nella giornata di lunedì le comunità pavoniane italiane si sono unite a quelle europee, africane e sudamericane per la messa di ringraziamento nella Basilica di San Pietro con il cardinale Comastri e il vescovo Zani. I santi infatti non temono la modernità ma sanno piegata al Vangelo con uno zero che mette in crisi la nostra pigrizia e la nostra mediocrità. Infine vorrei ricordare che San Lodovico ha amato la Madonna con lo stesso fervore che caratterizzò San Francesco d'Assisi, San Giovanni Bosco e in tempi recenti Santa Teresa di Calcutta. La Madonna, noi lo sappiamo bene, ha avuto da Gesù una consegna ben precisa. Gesù le ha detto Don, ecco tuo figlio e questo figlio è ognuno di noi. San Lodovico lo è stato veramente. Ci aiuti e ti aiuti a fare altrettanto. Un carisma, quello del Pavoni, sempre attuale per la formazione delle nuove generazioni. La Madonna, noi lo sappiamo bene, ha avuto da Gesù un'amore per la formazione delle nuove generazioni. La Madonna, noi lo sappiamo bene, ha avuto da Gesù un'amore per la formazione delle nuove generazioni.